Oggi andiamo alla caccia del trio Tau. Siete pronti? Si parte! Benvenuti miei ombri in un nuovo episodio della miniserie dedicata alla caccia ai Pokémon leggendari su Scarlateveletto DLC, il disco Indaco! E oggi andiamo alla caccia di Reshiram, Zekrom e Kyurem, il trio Tau per l'appunto. Questi sono i Pokémon che abbiamo catturato insieme nei precedenti episodi, se vi siete persi qualcosa il link lo trovate qua in alto nelle schede, ma soprattutto se volete conoscere il modo con cui si sbloccano tutti i leggendari presenti nel disco Indaco, date un'occhiata al video che ho pubblicato sui 25 leggendari del disco Indaco, perché qua non entraremo nel dettaglio, bensì vi mostrerò solo la zona di cattura di questi Pokémon leggendari. Nello specifico ricordatevi solamente che Reshiram è un Pokémon esclusivo di Scarlato, ma solo se giocate offline. Zekrom, viceversa, è un Pokémon esclusivo di Violetto, ma solo se giocate offline. Infatti giocando in multiplayer, ormai lo saprete benissimo, si possono sbloccare tutti i leggendari, esclusivi e non. E infine Kyurem è esclusivo della cerchia contatto, quindi anche qui si sta parlando insomma del gioco in multiplayer. Tutti i dettagli nel video dei leggendari. Adesso noi partiamo con Reshiram. Naturalmente dopo aver terminato il gioco e dopo aver sbloccato lo spuntino per Reshiram, possiamo recarci a Paldea, ricordatevelo, e poi dirigerci nella zona dove è spawnato il Pokémon. Partiamo come al solito dalla voragine di Paldea e andiamo ad est questa volta. Ed è proprio qua che troveremo Reshiram. Quindi andiamo qua. Piccadia orientale. Ah, io avrò le Master Ball, eh? Saliamo. E saliamo. Sì, dobbiamo arrampicarci. Si erra una pada. Oppure si può anche volare, eh? Certamente. Però... Sì, vediamo se riusciamo. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta. Maestoso. Stupendo. E sempre sera quando faccio questi episodi? Non so perché, però è così. Non lo faccio apposta, eh? Salve! Ricordatevi, i Pokémon sono Sheniloked, tutti i leggendari del disco Indaco. E ricordatevi naturalmente, prima di buttarvi nella lotta, di salvare. I Pokémon respawnano. Ok. Però queste insicurezze di praticità. Nel caso andasse male qualcosa, spegnete e ricaricate. Decisamente meglio. Reshiram catturato. Bene. Non avevo dubbi. Andiamo al secondo. Che è... Zekrom. Allora, ci richiamo a sud-est. Qua dove ho messo il segnaposto. Quindi dove abbiamo questo spiazzale broccioso. Insomma, poi lo vedremo più o meno è qui, eh? In ogni caso, lo cercheremo insieme. In questo caso prenderò la torre di vedetta dell'area 5 sud. Direi che è il luogo più vicino. Oppure anche quello un po' più a sud. Sì, insomma, vedete voi, è uguale. Di nuovo. Mirai Don. E questa volta direi che... Volo, eh? Dobbiamo salire, comunque. Eccoci qua. Dovrebbe essere qui in zona. Diamo un'occhiata. Eccolo. Volete rivedere meglio la zona, visto che in questo caso non era super preciso il mio segnaposto? Siamo qui. Non avrete problemi a trovarlo. Static Encounter. Ci avviciniamo, pigiamo A. Ed ecco Zekrom, mamma mia. Bellissimo. Musichette... Eh, di classe. Tutti i Pokémon sono di livello 70, quindi regolatevi se non avete le Master Ball e dovete portare un qualche Pokémon per indebolirlo. Falso finale, paralisi, eccetera, eccetera. Manca l'ultimo, giusto? Allora, sempre da lavoraggine, andiamo a Nord. Il punto è all'incirca questo. Quindi prenderò il volo per il passaggio... Mescadia. Ok, seguitemi bene, mi raccomando, mi ride on. Non volo neanche che così ci capiamo meglio. Facciamo questa salitina, passiamo sotto quest'arco, dove c'è l'allenatrice o allenatore, non ho visto bene. E poi entriamo qua. Dopodiché, fate una cosa semplicissima. Buttatevi di sotto. Ecco il nostro bel Kyurem. Vale. E il trio Tao è stato catturato. Adesso non ci rimane che vederli fuori dalla ball e poi decidere il nostro preferito. Abbiamo in ordine Reshiram. Bello, eh? Tra l'altro vola anche. Incredibile. Poi abbiamo Zekrom. Eccolo qua. Magnifico. E infine, Kyurem. Che tra i tre è quello più me. Secondo il mio modestissimo punto di vista e basandomi solamente sul mio personale gusto estetico soggettivo. Quindi, in prima posizione metto certamente Zekrom. In seconda posizione, Reshiram. E in terza, Kyurem. Reshiram e Zekrom se la giocano però. Zekrom è sempre stato quello che mi è piaciuto di più nel corso del tempo, degli anni. Sarà forse il colore nero che in generale lo preferisco. Però è proprio bello. Drago elettro. Spettacolo. Bene, amici. Direi che per questo mini episodio della Caccia dei Leggendari è tutto. Ci rivediamo nel prossimo video. Grazie. Ciao. Ciao.